Taranto, Paolo VI, via 25 Aprile. Siamo in compagnia di Michele Mazzariello. Michele Mazzariello conosce la zona e sa la condizione di degrado di quest'area, in modo particolare di uno scantinato di una cantinola che è completamente sommersa dalle acque da anni. Parliamo di liquami che invadono lo scantinato e parliamo anche di rischi proprio per la stabilità, per la sicurezza dell'immobile che insiste su questa cantinola. Tante richieste, nessuna risposta. I rischi sono molteplici, qui ci giocano bambini e qui vivono tante famiglie. Prima questi cittadini si indirizzavano alle circoscrizioni, oggi le circoscrizioni non esistono più. Io voglio fare un appello al vice sindaco Lonoce, che l'ha detto ai lavori pubblici, indipendentemente da chi è la competenza di ACP, comune, bisogna dare un segno, bisogna venire qui, fare un controllo e vedere un attimo di risolvere il problema, perché qui la problematica è importante. Qui ci vivono bambini, giocano bambini, mi dicono che da dicembre sono senza luce. Dobbiamo cercare di mandare avanti questo quartiere, perché questo è un quartiere molto disastrato e dimenticato. Questi sono cittadini non di serie B, ma di serie Z. Bisogna dare un cambiamento a questo quartiere, visto che è sempre abbandonato. Grazie. 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 Grazie.